musica 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 ho fatto la seconda il terzo ho fatto tripla stai zitto i più forti sono i ho un po' di sonnolenza il terzo individuata attivazione codice dai devo ricaricare addio un drone esterdete switch a seconda memore non c'è nessuno entro in bomba io ma chi è fuori non l'ho sentito non c'è nudo oddio no non c'è nessuno ti hanno visto mi sono fatto una quadra calva metto in sicurezza la porta va la tattica di me a a a a è 18 fatto uno a terra uno l'ultimo nemico rimasto vittoria la piano 11